Sul simbolo, io non so se avete visto gli altri, questo oggettivamente è l'unico che ha il giallo ed è l'unico che non ha biciclette, tricicli, cerchi dentro altri cerchi dentro altri cerchi e poi è un programma, c'è l'Europa che è il nostro destino comune, l'unica cosa che dovremmo rafforzare in cui c'è la soluzione a tanti enormi problemi del nostro tempo, alle tante crisi che abbiamo di fronte da quella climatica a quella economica, il recovery plan da lì arriva e c'è chi si propone per governare penso alla Meloni e non lo ha mai votato né nel Parlamento italiano né nel Parlamento europeo e poi c'è il nome della nostra leader che è una storia, un metodo, un senso delle istituzioni e le lotte sui diritti.